Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Quindi, come dicevo questa settimana, video sull'organizzazione digitale. Quindi organizziamo il 2021, ma vi mostro anche alcune app che utilizzo io per organizzarmi. Oggi è il turno di note di Apple. Dato che me l'avete chiesto spesso, questa cartella non vuole eliminarsi. Tutte le volte la elimino e lei torna. Se sapete come fare, ditemelo perché non so più come fare. La elimino e lei torna. Comunque, come vi dicevo, dato che me l'avete chiesto, oggi vi mostro come ho organizzato le note perché ci sono alcune funzioni che mi sono utili per utilizzare quest'app. Allora, partiamo subito. Innanzitutto ho diviso in cartelle. Le cartelle sono numerate semplicemente perché almeno sono nell'ordine che voglio io. C'è anche la disposizione manuale, se non sbaglio, però io nel dubbio le ho numerate così almeno stanno sempre nell'ordine in cui voglio io. Allora, le cartelle sono note che è di default di Apple, quindi qui ci sono le note che non vengono archiviate, come per esempio questa che era una poesia che era uscita a marzo con il primo lockdown. E poi ci sono tutte le cartelle che ho creato io. La cartella social, che sembra vuota ma non è, adesso vi mostro perché. La cartella dedicata ai corsi, la cartella wish list, la cartella con tutte le chiavi che non vi posso mostrare perché ovviamente ci sono tutte le chiavi di registrazione dei prodotti che utilizzo e la cartella orari. Anche questa non ve la posso mostrare perché in quest'app ci sono le note degli orari della biblioteca e del veterinario del mio paese e dato che appunto non voglio svelare il nome del paese non ve la mostro. Comunque, allora, partiamo subito. Come vi dicevo, la cartella social sembra vuota perché semplicemente è suddivisa in sottocartelle. Le sottocartelle sono riguardanti appunto i miei non social, i miei profili diciamo, quindi Pringso e qui ci sono tutte le note riguardanti Pringso sia di YouTube che di Instagram, Paperless Pringso uguale e GDL Book Lovers che in realtà ha solo Instagram, quindi qui ci sono solo le note riguardanti Instagram. Poi, come vi dicevo, c'è la cartella corsi che anche questa è suddivisa in sottocartelle, quindi c'è la sottocartella per le mail, quindi c'è una... ho creato una didascalia per la mail, non una didascalia, un testo per la mail preimpostato che mi sono salvata qua così almeno sono... ce l'avevo già pronto, i link a tutte le lezioni, gli appunti delle lezioni e le recensioni che mi sono state lasciate per i corsi precedenti, così almeno le posso andare a mettere nel... sul sito. Partiamo appunto dalla cartella social, come vi dicevo. Qui ho Pringso, dentro Pringso infatti vedete che ho l'infobox, io lo creo su Instagram, su note, così almeno mi trovo meglio, quando carico un video semplicemente copio e incollo le parti che mi servono. Poi ho la didascalia di Instagram, che anche questa creo qua, perché innanzitutto si possono mettere le andate a capo, i puntini e si fa tutto meglio. La creo qua poi quando vado a condividere un post su Instagram, copio e incollo. E poi ho gli strumenti, quindi se magari qua il video è stato girato con la Canon invece che con l'iPhone, vado a copiare Canon da qua e a incollarlo nello spazio appunto videocamera. Poi qua ci sono appunto tutti i link, perché questo è, come vi dicevo, l'info box dei video di Pringso. In Paperless Pringso invece c'è questa nota, vabbè, che è la nota condivisa con Erika, in cui creiamo appunto tutte le dirascalie e cose varie del nostro Mi Digi Creative Lab, poi a gennaio vi faremo sapere meglio di che cosa si tratta. Questa è la dirascalia di Instagram, la bio di Instagram, anche questa la scrivo prima in note e poi dopo la copio è incollo su Instagram perché ci sono, ci posso mettere le andate a capo ed è più comodo. Anche qui info box dei video su, per YouTube. Qui c'è una dirascalia a base da usare, per esempio questa l'ho chiamata lettering, quindi per il lettering. Questa l'avevo chiamata lunedì, ma in realtà la potrei cancellare perché d'ora in poi lunedì sarà il dedicato al Mi Digi Creative Lab. Quindi questa la potrei eliminare, però come vedete ho proprio tutte le dirascalie per Instagram già preimpostate qua, in modo che io la vado tutta a modificare, la copio e la incollo su Instagram. Poi sempre in Pieperle Springs ho queste note che mi sono creata in questi giorni riguardanti i tre video che andranno online da domani fino al 31, riguardanti l'impostazione di Notion per il 2021. Quindi appunto mi sono fatta questi schemini, qui per esempio ho un pezzo di testo scritto e un pezzo di disegno con l'Apple Pencil, quindi comodissimo. Ed infine in GDL Book Lovers uguale, ho tutte le varie dirascalie per Instagram che mi possono servire, quindi queste. Poi ci sono le live, i link alle live su YouTube, così almeno le ho salvati qua e sono a posto anche con questo. Poi come vi dicevo i corsi, che cosa vi posso far vedere? Gli appunti. Ecco qui magari ci sono tutti gli appunti di una lezione. La prima lezione è la lezione sulla panoramica del corso. Quindi questo era come utilizzo io le note. Qui come vi dicevo ci sono le wishlist, così almeno le posso fare condivise con Franci, almeno vede la mia wishlist quando vuole. E lui ha fatto la sua condivisa con me. E per condividere una nota basta semplicemente andare qua e condividi nota, poi decidete con chi condividerla. Comunque appunto, questo era semplicemente per mostrarvi come uso io le note dato che mi è stato chiesto. E dato che io mi trovo molto bene perché questo sistema lo utilizzo da tanto tempo, ho deciso quindi alla fine di mostrarvelo in modo che anche voi possiate prendere spunto. Questo era tutto per questo video. Noi ci vediamo domani appunto con il primo video dell'impostazione del planner del 2021 su Notion. Sono emozionatissima, devo ancora girarlo, non vedo l'ora. E basta, vi lascio appunto al video di domani. Spero che questo vi sia piaciuto. Se avete qualsiasi dubbio o domanda scrivetemi come sempre in info box che io rispondo a tutto. E vi lascio al video di domani. Vi mando un bacione. Ciao! 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 Grazie.